messaggio per annarita che mi ha lasciato un bellissimo commento che ho potuto leggere come notifica privata cioè tramite la mail ma non posso cedere con il link della notifica al messaggio che dovrebbe comparire sotto al vocaletto destinato non ho capito per quale motivo pensavo solo che questo potesse essere un problema da filtri e che mi blocchi i commenti o che non mi faccia comparire in pubblico commenti con allegati dei link e non credo che annarita abbia lasciato anche qualche link visto il contenuto affettuoso e tenero che riguarda lei personalmente insomma che ha lasciato come commento e mi dispiace proprio tanto mi scuso con tutti quelle persone con tutte le persone che non vedranno una mia risposta ma se impedita da non so che cosa che riguarda youtube perché se mi arrivano le notifiche quindi non vi dovrebbe essere nessuna censura nessuna censura riguardo ai vostri commenti e che mi passa poi le peggio cose che ormai individuo il capisco quando sono dei fastidi e blocco e vado mi dispiace mi dispiace veramente mi dispiace perché è brutta una cosa brutta soprattutto visti anche i bei contenuti che spesso lasciate insomma che non solo solo dei complimenti anzi mi date parte delle vostre vite del vostro quotidiano li compartite come bello come a me piace che sia insomma ecco che non ci sia solo del mio ecco che ci sia anche del vostro altrimenti non avrebbe senso comunicare parte del mio quotidiano e parlerei solo di filati di tecniche ma non è così non non è il mio modo di approcciare neanche con queste cose anzi perché il mio fare filati è partecipare me stessa anche e quindi mi dispiace mi dispiace mi dispiace ecco non vorrei che qualcuno si impermalosisse che pensasse che sono che ne so che trascuro ecco capita a me non dipende da me mannaggia mannaggia e allora questa cosa l'ho affrontata con questi bei filati che sono arrivati ieri perché a parte qualche comprensione o qualche punto di vista diverso manifestato con pigli un po battaglieri ecco qua si sta bene io spero di creare un ambiente tranquillo anche se io poi mi esprimo non sono per il politicamente corretto perché non ha non ha senso non ha senso non no io non ho nessuno timore di espormi non mi interessa di rimanere garbata chiunque e quindi manifesto il mio pensiero perché è parte dei creativi vogliamo dire anche degli artisti di manifestare il proprio pensiero e qui non è che ci siano delle qui si devono esprimere solo i tecnici e quindi mi importa poco se le persone non gradiscono e si cancellano pazienza ce ne facciamo da ragione ne siamo per tutti quindi un abbraccio una bella giornata se strana perché un po si è oscurata un po si è riaperta tutto questo velamento di cielo non ero più abituata non mi garba sulle montagne si vede la neve la sera credetemi fa freddino vanno ancora parecchio in giù le temperature sono bassette la notte i fiori però pare stanno abbastanza bene diciamo che reagiscono meglio al freddo che al caldo ormai le piante si sono adattate a capito che il nemico maggiore il caldo le torri di estate infatti va tutto in riposo durante i mesi più caldi poi infatti le rose le abbiamo molto di più a gennaio che non aprile maggio la mia rosa è già si ammala costantemente c'è niente da fare rispetto a tutte le altre la mia si ammala forse a poca terra perché sbuca fuori dall'asfalto ma anche la pianta nel mio vicino evidentemente io avrò della roccia sotto che ne so povera la rosa della paolina ma ha di un profumo il sedano spero non mi si ingiallisca perché ha preso un brutto colore stamattina o sedano stavi bene la minù cerca un po il fresco cerca un po il caldo manco lei lo sa vado mi spiccio questi sono i lini allora perché ve li faccio rivedere perché mi ha spiegato l'orella che in questi ultimi lini sono riusciti ad ottenere un filato ancora più duttile rispetto al primo linette e a me piaceva anche l'altro ma questo penso che ecco chiedete all'orella perché non so se ci sono ancora anche di quelli precedenti e anzi no perché l'avevo finito tutto io era finito l'inette quindi questo sì questo ve lo consiglio per l'abbigliamento vi consiglio un abbigliamento molto traforato perché lui renderà nei punti che devono rimanere aperti e certo bisogna amare la consistenza del lino ecco è un filato che rende nel merletto e sarà molto bello anche a croce sarà bellissimo a maglia sarà incantevole tessuto e su dei tessuti a grano a grana sentite un po la trama leggibile diciamo abbastanza aperta credo che possa dare dei dei bei risultati anche come con il ricamo tipo un aiuta non troppo grossolana io le adoro fare i pannelli tenda e copri porta con l'aiuta l'aiuta è meglio grezza non tinta perché il colore nell'aiuta anche se è di sintesi dura poco tende a sbiadire tantissimo ma se trovate della bella aiuta grezza naturale quella un po più chiara quella proprio perché anche nell'aiuta nel naturale non tinto troviamo diversi colori con il linette potreste divertirvi a ricamare a fili contati a fare delle dei bordi di azure evoluto elaborato se non l'avete mai fatto provate provate a fare dei copri tavoli anche così con l'aiuta a noi noi che ci vediamo poco no noi che ormai non che ci vediamo poco tra lì non ci vediamo mai io poco mi presento ma noi che siamo con gli specetti da vecchiette io ci vedevo benissimo fino a poco tempo fa tanto tempo fa ormai non mi ero accorta che ero diventata ciecata non mi davo per vinta ce l'avevo con gli aghi ce l'avevo con le scritte sulle boccette che comunque le scrivono piccole e dicevo camilla viaggiavo con una lente di ingrandimento appesa al collo perché io le etichette quando acquisto leggo che possa che sia farina che sia che ne so un riso io vado a leggere le etichette veramente una dannazione questa bella lente attaccata al collo ma una signora di 90 anni mi ha fatto capire che forse era il caso di mettere gli occhiali che non ci vedevo ma mi fece provare i suoi che mondo e vabbè non vedevo il cellulare non vedevo più niente non vedo io non posso scrivere al cellulare senza occhiali è una dannazione a dipendere dagli occhiali e allora ce n'ho 20.000 da lettura in tutte le camilla ogni volta che viene su mi porta o un un due o tre paio di occhiali perché mi ci siedo sopra perché li pesto sono una capra però mi servono il panico se non trovo gli occhiali ce l'ho ce l'ho ovunque poi non li trovo perché poi li copro li copro tutti li nascondo e li sposto invece uno fisso in camera quello non si tocca piuttosto scendono e prendo un altro paio quello deve stare lì e lì sul comodo quindi bordini sulle telerie se avete la possibilità di tenere una porta verso il giardino aperta e avete tanto ormai le zanzariere ma le zanzariere sono anche natura di scatole sapete quelle fisse che vanno aperte io ce l'avevo nella porta a finestra nella camera di camilla su oraca di papa che dava su un bel balconcino sulla valle era meraviglioso quella faccio ma non sapete le volte ci sono andata a sbattere contro sbeng ma ci abbiamo vissuto quasi dieci anni e io immaccabilmente zanzariere chiusa musata contro la rotta e lo riaggiustate quindi a volte una tenda un copri porta ci può essere più simpatico della zanzariere quindi se avete voglia se volete fare delle tovagliette dal giardino ecco un progetto più contenuto il linette ve lo consiglio non ci sono tantissimi colori sgargiantini e sono belli per quello perché comunque vi creano contrasto poi potreste anche provare con i cotoni tipo come si chiama il macò che ha delle tinte belline ne ho fatta una bella scorta ma è un po più grosso quindi con ricamo fate attenzione però ecco potrebbe andare negli ajour assolutamente sì negli ajour quelli belli alti perché se avete timore degli insetti potete cucire o mettere con degli automatici anche una tenda una controtenda in wall un tessuto trasparente dove passi l'aria e ecco che blocchi gli insettacci dall'altra parte però potete giocare appunto con i contrasti le trasparenze e se non avete mai realizzato uno sfilato potrebbe essere la buona occasione di prendere una parte del materiale di fondo in più dove fare i vostri esperimenti e poi visto che è una trama si più o meno regolare c'è si trova dell'aiuto abbastanza regolare ma concede ecco un po di imprecisioni diciamo è di facile lettura quindi provateci si trovano ammetraggio di tante altezze e ci sono anche le altezze per i copri porta che poi si possono fare anche doppi quindi aperti nel mezzo per agevolare il passaggio qui c'è ancora molto l'usanza della tenda contro la porta io da quando sono qua ne ho già consumate due così e quindi ecco un utilizzo di linette un possibile utilizzo di linette un possibile utilizzo di macò e ci sono parecchi metri poi ve lo dico 200 metri il lino sì 200 metri il linette e mi pare qualcosa in più il macò ma non sono sicura intanto qua sotto al naso ci avete il linette nei colori delle spezie c'è un quasi senape qua vedete c'è un bel pietra qua bianco e nero grigio e nero è bello poi c'è un'altra pietra qua davanti e c'è un bel corda un cioccolato c'è quel bel verde sgargiurino e questo quest'altro che è più non è la curcuma comunque è speziato va bene non è la curcuma non è la senape che è una senape scura forse è bello sono proprio colori belli e cioè che sono di mio gusto che possono ecco per le sfilature dove non è che abbiamo bisogno di chissà quali colori ecco magari un tono su tono con l'aiuta avete non avete che l'imbarazzo della scelta a secondo di come avete il pavimento esterno la vostra soglia la vostra porta quello che vi circonda eccole qua che poi sono belli anche come tende da interno aiuta non vorrei dire l'aiuta è lavabile biodegradabile quando siete stufi la compostate e lino anche quindi buona giornata adesso vado e corro non mi fermo più fino a stasera notte non mi sentite state bravi se potete non mi fermo più fino a stasera notte non mi fermo più fino a stasera notte non mi fermo più